Buongiorno, buongiorno, ben svegliati con Rassegna Stampa Web, il primo appuntamento dedicato all'informazione di questa lunga giornata di Super G, mercoledì 1 di aprile, come di consueto faremo il nostro viaggio nell'informazione online di Abruzzo e Marche. Iniziamo dalle Marche, dal Corriere Adriatico, nell'edizione online del principale quotidiano marchigiano, andiamo a vedere in home page, c'è la cronaca in evidenza anche la tragedia che si è consumata nella notte tra lunedì e martedì sulla A14, si uccide lanciandosi da un cavalcavia della A14, una donna di 35 anni di Altidona che ha scelto, ahimè, insomma, un viadotto nella zona di Samedetto. Ancora con la cronaca, domani torna la salma di Daniele Vannicola, tornerà domani infatti da Volterra, la salma del giovane morto, insomma, per causa in corso di accertamento. Poi addio a Giancarlo Cameli, era stato cuoco di bordo, notizia questa che arriva da Grotta a mare, escursionista di 52 anni, muore a Monte Piselli, un turista di 52 anni infatti è morto in seguito all'infarto mentre stava facendo un'escursione sul Monte Piselli. Ancora con la cronaca, un equipaggio ascolano partecipa alle 1000 Emilia, queste le notizie in evidenza relativamente alla pagina ascolana. Per quanto riguarda la pagina invece marchigiana, insomma, questa era la pagina ascolana, per quanto riguarda quella marchigiana ancora, notizie di cronaca, vendono su Facebook le scarpe rubate, e qui siamo a Monte Granaro, e poi incidente in autostata, paura per 6 giornalisti. Ancora notizie di cronaca, con lo scontro con la PECAR muore un anziano di 81 anni, come abbiamo avuto modo di dirvi nell'edizione del nostro notiziario di ieri sera, insomma, episodio questo accaduto a Osimo nel pomeriggio di ieri. Queste le notizie principali in evidenza sempre con la cronaca. Andiamo a vedere invece la pagina marchigiana per quanto concerne la politica. Renzi nelle Marche per sostenere Ceriscioli, arriva l'annuncio dal sindaco di Pesaro nella corsa che porta alle regionali del 31 di maggio. Ancora notizie in evidenza, Eusebi Marinelli dal PM Le Boroni, fondi a consigliere regionali, insomma, prosegue l'inchiesta ovviamente di quella che sono state chiamate, insomma, le spese facili, rimborsi facili. Il riordino delle province, il Consiglio regionale marchigiano ha approvato a maggioranza la legge di riordino appunto delle province. Poi presidio contro Italia al bilancio regionale, quindi insomma la protesta che va in scena ieri nella seduta dell'Assemblea regionale, poi Marche, vento forte, scarta l'allerta meteo. Questi gli altri titoli in evidenza. Andiamo a vedere invece la notizia di politica. Andiamo ad approfondirlo all'annuncio della visita alla presenza del Premier Matteo Renzi nelle Marche a sostegno della candidatura di Luca Ceriscioli. Premier Matteo Renzi nelle Marche per sostenere Luca Ceriscioli. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi verrà nelle Marche a maggio nei primi dieci giorni del mese per sostenere la campagna di Luca Ceriscioli, la sua proposta di buon governo per il cambiamento della regione. Lo comunica il Sindaco di Pesaro e il Vice Presidente del PD Matteo Ricci dopo il confronto con il Premier nella direzione nazionale. Ci siamo aggiornati sulle Marche, spiega Ricci. Abbiamo avuto modo di confrontarci e mi ha annunciato la sua presenza entro i primi giorni di maggio. Il suo staff sta definendo l'agenda, l'iniziativa si terrà ad Ancona. Mentre Luca Ceriscioli, secondo il Sindaco di Pesaro, quotidianamente incontra cittadini, forze sociali e economiche della regione, illustrando programmi concreti. Dall'altra parte i progetti trasformistici stanno naufragando nei fatti. Continua lo stato confusionale del centrodestra, si regge ancora, anche perché le operazioni costruite in laboratorio legate alle poltrone non convincono nessuno. Per Ceriscioli arriva il Premier Renzi, per Spacca aspettiamo l'arrivo di Brunetta e Santanchè. Ognuno ha i suoi sostenitori, dice in maniera molto sarcastica Ricci. Bene, secondo il Sindaco di Pesaro, l'accordo PD-UDC, il fatto che l'UDC delle Marche abbia deliberato l'alleanza con il Partito Democratico, conclude e la dimostrazione che il Centro Moderato e di Governo sta con Ceriscioli. Una scelta di coerenza, quindi parole molto chiare da parte del Sindaco di Pesaro, relativamente a quella che è la battaglia pre-elettorale per quanto concerne le Marche. Ovviamente qui si parlava anche di un presidio contro Italia al bilancio regionale, andiamo a vedere un piccolo passaggio di questa protesta. Grande adesione al presidio proposto dalla CGL, Cisle e Will, Marche contro Italia e il bilancio regionale legati alla riduzione dei trasferimenti alla regione, agli enti locali della legge di stabilità. Oltre 300 lavoratori, i rappresentanti degli studenti medi universitari hanno preso parte a Sedin, davanti alla sede del Consiglio regionale. A metà mattina la delegazione del CGL è stata anche ricevuta dal Presidente del Consiglio Vittoriano Solazzi, del Capogruppo Consigliari, quali sono state illustrate le richieste dei sindacati. Questa la protesta. Ieri però ad Ascoli, al Comune di Ascoli, c'è stato un importante Consiglio Comunale aperto, tutto dedicato alla vicenda della Prismian, l'avvertenza ovviamente con la prospettiva che lo stabilimento ascolano di qui a poco possa chiudere i battenti. Andiamo ad ascoltarci i protagonisti, il Sindaco e i rappresentanti dei sindacati su questa vicenda. Vediamo. Sindaco, oggi un Consiglio Comunale aperto per il caso Prismian, ma affattivamente uscirà un ordine del giorno? Sì, abbiamo preparato, spero, congiuntamente, fra tutti i gruppi consigliari, un ordine del giorno, ma al di là di questo l'importante è che l'impegno sia, al di là delle parole, concreto, là dove è possibile giocare la partita, ovvero al Ministero delle Attività Produttive, che come è noto la scorsa settimana ha visto il Vice Ministro dei Vincenti prendere un impegno, non senza esprimere anche le preoccupazioni circa la possibilità che venga rispettato, ovvero il piano industriale della Prismian va cambiato. Non è facile, non è semplice. Abbiamo la sensazione che la Prismian voglia chiudere lo stabilimento, anche se degli spiragli ci sono venuti proprio da questa presa di posizione così inequivoca da parte del Governo. È chiaro che chi deve operare in questo caso è la politica, quella un po' più alta del Consiglio Comunale, perché chi ci rappresenta in Regione e al Governo non è stato in grado fino ad oggi di portare risorse sul territorio che avrebbero permesso il mantenimento o perlomeno la salvaguardia dei siti esistenti. Faccio un esempio, Rieti, che viene dichiarato il Comune di Rieti, zona industriale depressa, usufruisce di 25 milioni di euro di quei soldi, stessa tipologia dati al sud, quindi parliamo di fondi strutturali europei, che permettono la riqualificazione delle fabbriche nel territorio. Questo qui è mancato completamente. In una zona come la nostra, disastrale completamente, industrialmente parlando, noi non stiamo dentro a questa tipologia di riconoscimento. Sentite la vicinanza dell'amministrazione in questo momento? Io devo dire che l'amministratore è stata molto presente, si è attivata subito. Il giorno stesso dopo il 2 del mese noi abbiamo fatto una richiesta al Ministero di Incontro Urgente al Mise, lo stessa cosa ha fatto il sindaco, si è resiato personalmente al Mise per cercare di sbloccare questa situazione. Devo dire che nelle sue possibilità ha fatto quello che poteva fare. Ci incontreremo nuovamente alle ore 17 al Ministero con la grande speranza che Prismian possa fare un passo indietro rispetto alla decisione che ha preso il 27 febbraio 2015. Noi ce la stiamo mettendo tutta e l'apporto della politica in questo momento è importante perché solo la politica ci può tirare fuori da questa situazione. In questo momento sentite che l'apporto di Ascoli sia decisivo, fondamentale per voi? Sì, l'apporto della città è sempre importante, soprattutto della cittadinanza, poi è ovvio che in questo momento tutto si è spostato a livello nazionale con diverse interrogazioni parlamentari, quindi con l'intervento del Ministro De Vincenti, questo era un atto dovuto comunque del Consiglio Comunale di Ascoli. Ci spostiamo in Abruzzo ora dal Corriere Adriatico a City Rumors, andiamo a vedere i titoli in evidenza, qui c'è ancora un titolo di ieri, poi dopo andiamo ad approfondire quello che riguarda Ripeti Civitella, sempre con la sindacale Roseto svolta storica nell'avvertenza per quanto riguarda le industrie Rolli, qui siamo a Roseto, altra avvertenza spinosa di questi giorni dipendenti, qui siamo a Pineto, del Mercatone 1 a Roma nella sede del Ministero presa di posizione ovviamente dopo il Consiglio Comunale di Pineto anche da parte dell'amministrazione comunale di Roseto. Con trafazioni c'è anche il Montepulciano svedese e l'Olio Abruzzese, da Africa la mostra del falso alimentare, ieri a Pescara nella sede della Camera di Commercio ovviamente insomma è stato presentato un rapporto relativamente ai falsi e insomma ne sono venute fuori delle belle, c'è anche un'ampia galleria fotografica proprio su questi falsi d'autore, ovviamente Pineto con l'avvertenza Mercatone 1, queste le notizie, poi abbiamo Frana Ripeti Civitella qui c'è il titolo del giorno precedente quando era stato rubato il gasolio al generatore di corrente, il sindaco ovviamente parlava all'indirizzo dei ladri di Sciacali, ovviamente ci sono delle novità proprio oggi e atteso a Ripeti Civitella l'arrivo dei tecnici e degli esperti del CNR insomma per il monitoraggio elettronico della Frana in attesa ovviamente che la situazione si evolva e possano comunque nel contempo essere adottati provvedimenti non più tampone ma insomma provvedimenti un po' più significativi, concreti. In proposito noi abbiamo ascoltato il sindaco Cristina Di Pietro, vediamo. Il movimento Franosso si è stabilizzato ormai da qualche giorno ma i tecnici sono ancora all'opera e stanno monitorando continuamente la situazione. Sì, da qualche giorno il movimento Franosso di Ripeti si è stabilizzato, è però una Frana che permane e quindi ha bisogno di un monitoraggio. Proprio qualche istante fa mi ha comunicato Mauro Cardinali del CNR di Perugia che domani mattina verranno appunto tecnici del CNR per posizionare questo monitoraggio elettronico che consentirà innanzitutto di controllare in maniera più attendibile l'evolversi del fenomeno franosso e poi consentirà anche a noi di adottare misure più idonee anche per la reggimentazione delle acque e per le misure di protezione civile che comunque stiamo continuando ad adottare. Teniamo sotto controllo la situazione anche per quanto riguarda il discorso viario perché ancora la strada di accesso a ripe è penalizzata da questa colata di fango che a seconda del tempo, soprattutto in occasione di anche piccola pioggia, diventa piena di fango. Attualmente i tecnici che lavori stanno svolgendo nello specifico? Allora ancora si sta portando via l'acqua a monte perché c'erano molti laghetti e quindi si stanno facendo opere di doni a portare via quest'acqua. Poi adesso nulla, oggi nulla perché domani ci stiamo preparando per posizionare questa apparecchiatura elettronica. In questa situazione gli sciacalli hanno anche rubato dei gas al distributore Enel, come commenta quanto accaduto? Beh è veramente deprecabile, sono azioni, insomma si commentano da sole, speculare sulla difficoltà di una comunità che già credo abbia subito tanto in queste settimane è veramente incommentabile. Sono molto amareggiata perché togliere per poche centinaia di euro gasolio soprattutto durante la notte ad un generatore che alimenta, che dà energia corrente ad una frazione è triste, io dico veramente che è triste. Ci ho detto però voglio dire che gli abitanti di Ripe anche in questo sono stati molto vigili e nella nottata so che sono stati proprio attentissimi e infatti questa notte non si è verificato nulla. Ancora siti rumors, altri titoli invece che investono la pagina squisitamente terramana. Giulianova chiedeva il pizzo ai commercianti, un rom condannato ieri al tribunale di Teramo. Giulianova, il comune rinuncia alla Giulia Servizi, alla Giulia Rete, l'annuncio del sindaco Francesco Mastromauro Roseto, qui avevamo già visto per quanto riguarda la svolta storica nella vertenza Rolli. Martinsicuro, sicurezza comitati di quartiere e bilancio dell'assemblea pubblica nel programma questa sera in sala consigliare. E poi Tortoreto, adeguamento sismico per quanto riguarda le scuole del centro storico, interventi durante l'estate e come annuncia in questo articolo l'assessore ai lavori pubblici Renato Kecchirichi, insomma l'investimento a 650 mila euro con un corposo finanziamento da parte della regione, lavori che dovranno essere iniziati in tempi brevi alla fine dell'anno scolastico, 100 giorni per concludere. Poi Bellante, oltre 1 milione e 300 mila euro i danni prodotti dal maltempo al badriatica, scooter sul ponte in legno, come risolvere il problema, la proposta nel caso di specie. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ci ritroviamo tra qualche istante. Di nuovo assieme con Rassegna Stampa Web in questo mercoledì primo di aprile. Riprendiamo il nostro viaggio nell'informazione web, tornando nuovamente nelle marche con Riviera Oggi. Il titolo forte, qui polemico, è una vicenda che poi tra le altre cose negli ultimi giorni si avverte ancora di più, tra Riviera Oggi, l'amministrazione comunale di San Menedetto, la Mille Miglia, Buca San Menedetto, l'organizzazione Nessuna, risposta dal comune. Poi andremo a leggere qualche passaggio di questa polemica. Il 2 aprile le operazioni di carotaggio dell'imboccatura del porto, dopo l'ordinanza da parte della Capitineria del Porto, della Guardia Costiera, insomma domani prenderanno il via le operazioni di carotaggio. Poi Movida, la proposta dei locali del centro, vigilanza notturna e prezzi degli alcolici però al rialzo. Quindi questa è una delle proposte per la Movida sicura, tranquilla della Riviera delle Palme. Regionali, qui parliamo di politica, nel PD Riviera sarà duello benigni urbinati. Poi il minacce al giudice, Filippello era soltanto uno sfogo. Andiamo ad approfondire alcuni di questi titoli proposti da Riviera Oggi, partendo dalla vicenda della Mille Miglia che farà tappa ad Ascoli ma non a Sammedetto. La Mille Miglia non passerà per Sameto del Tronto. Il comune, scrive Riviera Oggi, non avrebbe risposto alla richiesta dell'organizzazione impedendo così che la storica corsa si limitasse all'arrivo ad Ascoli. Questa è almeno la versione che arriverebbe dal quartiere giornale di Brescia che aveva pensato a una passerella in Riviera il 15 di maggio. L'interessamento di Sameto avrebbe coinvolto anche Fermo e Grotta a Mare con una prova cronometrica sul lungomare tra le 12 e le 16 che sarebbe stata allungata fino a Porto d'Ascoli. Al contrario la truppa virerà da Macerata verso la città delle Cento Torri per poi dirigersi a Riete ed infine a Roma. La Mille Miglia è stata una corsa di lunga distanza effettuata su strade aperte al traffico e è andata in scena dal 1927 al 1961. Dal 1977 l'appuntamento revive sotto forma di gara per auto d'epoca. San Benedetto qui c'è anche un escursus di natura storica che ospitò la manifestazione in maniera interrotta dal 49 al 57. Poi ovviamente c'è anche un interrogativo disattenzione e equivoco. Il presidente dell'automobile club di Ascoli, Piceno e Fermo, Elio Galanti, vuole credere alla seconda ipotesi. C'è l'equivoco. Dubito che l'amministrazione abbia rifiutato la proposta. Si trattava di un appuntamento vantaggioso. Gli sponsor avevano tutto l'interesse di finanziare una tappa di mare. Non penso che una città a vocazione turistica abbia volutamente detto no a un'opportunità del genere. Ci impegneremo per riprovarci nel 2016 e l'articolista poi chiude. I dubbi potranno essere sciolti soltanto dal comune su questa polemica sotto praticamente a ridosso del periodo pasquale. Poi il 2 aprile abbiamo detto l'operazione di carotaggio. C'era anche un titolo di politica che andiamo ad approfondire che riguarda ovviamente il discorso delle regionali e le candidature in seno al Partito Democratico. Saranno Fabio Urbinati, Claudio Benigni, Anna Casini e Monica Acciarri, candidati del Piceno in quota PD alle prossime regionali. Due uomini, Samenettesi e due donne, Ascolane, così come imponeva il regolamento del partito nel rispetto delle quote rosa. Ad ufficializzare i nomi è stata l'Assemblea Provinciale che ora passerà la parola agli organi regionali chiamati domani ad effettuare la ratifica. Il segretario Francesco Comi non dovrebbe opporsi ad una quaterna che ha rispecchiato la volontà dei circoli. La Casini si era imposta con 574 voti, seguita da Benigni con 200, Urbinati 185 e Lacciarri con 64. Un imbarazzo evitato anche al ritiro polemico di Antonio Canzian che si era attestato a 97. Il futuro consiglio regionale, scrive Rivera Oggi, vedrà diminuire il numero di componenti da 42 a 30. Il Piceno otterrà complessivamente quattro seggi, due in meno del 2010, altrettanti ne riceverà fermo, 6 Macerata, 7 Pesaro e 9 Ancona. Questo ovviamente il riscontro numerico illustrato da Rivera Oggi relativamente a quella che sarà la composizione del nuovo consiglio regionale che sarà disegnato ovviamente come tutti sanno dalla tornata del prossimo 31 di maggio. Noi restiamo nel Piceno, c'è una polemica di natura politica a Castel di Lama con le opposizioni che hanno ovviamente chiesto una sorta di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Andiamo a sentirci proprio l'intervista del primo cittadino di Castel di Lama. Credo che questo sia stato uno squallido tentativo di alcuni spregiudicati che purtroppo, purtroppo c'è da sottolineare che si sono lasciati manipolare, si sono lasciati raggirare da alcuni vecchi della politica di Castel di Lama che pensano che attraverso questi criteri vogliono o possono ribaltare quello che è stato l'esito delle urne. Quando i cittadini ci hanno dato a noi, a Castel di Lama per tutti, a questo sindaco il mandato di amministrare questo paese, questi vogliono ribaltare l'esito, la volontà dei cittadini con questi squalli di giochi della politica che a me fa piacere definirli i giochi da prima repubblica. Per quanto riguarda l'assessorato vacante, ha già in mente alcuni nomi oppure manterrà ancora l'interim per un po' di tempo. Per il momento le deleghe sono state riassorbite da me, dal sindaco, fino all'evolversi della situazione. Stiamo lavorando per comunque garantire l'operato dell'amministrazione per non mettere il nostro paese, il nostro territorio in una situazione di stallo. Stiamo moltiplicando gli sforzi, il sindaco con tutti gli assessori proprio per sopperire, per compensare la momentanea assenza di questo assessore. Dalle vicende politiche di Castel di Lama, quindi del Piceno delle Marche, torniamo nuovamente in Abruzzo con ml.it. In home page, in evidenza, c'è un titolo di politica, tutto dedicato all'infocata seduta del Consiglio Comunale di ieri a Teramo. Teama, il popolo degli esuberi in consiglio, intanto il comune esce da Mote, Arpa e Gran Sasso. Questo è il titolo di ML. Hanno alzato la voce in consiglio per farsi sentire e vedere. Sono il popolo degli esuberi del Teramo Ambiente, 26 addetto alle pulizie degli immobili di proprietà del comune. Poi andremo a vedere altri passaggi di questa ricostruzione. Chiedeva il pizzo ai commercianti di Giulianova, Roma condannato, il titolo di giudiziario visto già su City Rumors. Nidi a Teramo, il comune naviga verso l'affidamento all'esterno, delibera di indirizzo in consiglio. Intanto il micronido arriva allo stop al servizio gratuito. Sempre di riflesso alla polemica nata in consiglio comunale ieri, pomante, il conflitto di interessi del sindaco c'è e non esclude il ricorso al Tar. Animato il dibattito infatti sulla posizione del primo cittadino nella relazione nel voto sull'indirizzo delle partecipate. Abuse di Lisa Giulianova, 4 le condanne. I condannati non avevano rispettato le prescrizioni relative alla tutela del paesaggio collinare. Condanne, come scrive ML, che riguardano tre imprenditori, ovviamente della zona Longari migliore, di un ex funzionario comunale. Pensione, IMS, i suggerimenti di poste italiane per evitare le code. Contrafazione, anche qui arriva il Montepulciano d'Abruzzo, Tarocco, con un importante convegno che si è tenuto nella sede della Camera di Commercio di Pescara, organizzato dal Col di Retti. Poi Mercatone 1 ha vietato il cambio di destinazione ed uso dell'area. Queste ovviamente gli stratagemi o comunque le alternative per evitare che il punto vendita poi possa essere definitivamente chiuso, come la proprietà del centro commerciale ha già annunciato. Procediamo il nostro viaggio nell'informazione online, tornando nuovamente nelle Marche. Andiamo a vedere invece i titoli proposti dal sito web istituzionale dell'Agenzia Anza, qui ovviamente l'abbiamo già visto e letto anche sul Corriere Adriatico. Ricci, il sindaco di Pesaro, annuncia l'arrivo di Renzi nelle Marche a sostegno di Ceriscioli. Poi Urbino non concorre per la capitale della cultura. Spacca, non abbiamo bisogno di leader regionali e ancora la politica. Spacca, Ricci, i nostri supporter sono i marchigiani. Andiamo ad approfondire questi due titoli. Abbiamo già visto le frecciatine, insomma, che il sindaco di Pesaro lanciava l'indirizzo di Spacca. Qui ci sono anche le risposte. I moderati delle Marche sono con noi. L'Udc partecipa al progetto di area popolare. Marche 2020 è il partito delle Marche e non ha bisogno di essere trainato da leader esterni perché è sufficientemente spinto e sostenuto dai marchigiani. Così il presidente Spacca replica al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, bene l'arrivo del premier Renzi nelle Marche perché così potrà offrirci alcune risposte concrete, dice Spacca, sulle risorse per l'alluvione, sui ritardi nei costi standard o sulla Fano Grosseto. È sempre su questo aspetto. Ovviamente Spacca non si tira fuori tutti i sassolini dalle scarpe. Infatti siamo davvero felici ovviamente dell'arrivo del presidente del Consiglio. E altro ancora, sottolinea Spacca, il progetto di area popolare è varato sia nella forma che nella sostanza. Qui c'è una riflessione, una stoccata di natura politica. È un progetto nazionale che ci interessa. L'Udc ne è protagonista a pieno titolo anche nelle Marche. Una conferma ribadita anche in un colloquio telefono con il presidente di area popolare misto dell'interno, Angelino Alfano, dopo un ulteriore confronto con Lorenzo Cesa, che già ieri si era espresso molto chiaramente. Chi farà scelte differenti, rimarca, dice ancora Spacca, lo farà a titolo personale e potrà sicuramente continuare il proprio impegno politico, ma in altre liste. In ogni caso, in settimana sarà presentato il simbolo di area popolare che riassumerà i simboli di Marche 2020, Udc e nuovo centro-destra. Queste ovviamente le dichiarazioni del governatore Spacca, che con Marche 2020 correrà per il terzo mandato. Torniamo nuovamente in Abruzzo. Andiamo a vedere invece i titoli proposti da primadanoi.it, il quotidiano online diretto da Alessandro Biancardi. Qui in home page c'è la questione delle trivellazioni. Il petrolio schiaccerà l'Abruzzo? Come reagiranno gli abruzzesi all'imposizione del governo? E qui ovviamente si titola in maniera anche molto diretta dittatura del petrolio. Poi l'ospedale di Atesta, qui parliamo di sanità. Chiude la chirurgia, l'ASL, le licenze precarie e mette in crisi anche l'urologia di basto. Questa è l'allarme che arriva dalla parte sud della regione Abruzzo relativamente alla questione sanitaria. Montesivano e città Sant'Angelo. 8 ore senza luce per lavori urgenti. Oggi e domani un'interruzione come forma di intervento dopo tutte le difficoltà che si sono generate in occasione del maltempo del 4-5-6 marzo, che ha imposto un blackout forzato in diverse zone abruzzesi, tra le quali anche l'area Vestina e non solo. Poi appalti GTM, paline pubblicitarie, rito privato per Michele Russo, processo rinviato a giugno. Ancora sempre su Prima da Noi, rapporti con un imprenditore, chiuse le indagini sul colonnello dei Carabinieri. L'ex comandante dell'Aquila ha indagato con lui anche l'ex city manager della città dell'Aquila. Poi vandali attaccano il treno regionale nella stazione di Pescara con la cronaca. Il Tribunale Acqua e Prelievo Fiumi non riduce la produzione di energia. E poi insomma con la cronaca rubano quattro quintali di rame, liquore, un televisore, quattro persone finiscono in manette. Questi titoli in evidenza su Prima da Noi. Prima di salutarci, scusate il gioco di parole, andiamo a vedere anche quelli che sono i titoli proposti da Certastampa.it, l'altro quotidiano online Terramano che fa parte integrante della nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere, chiedeva il pizzo ai commercianti di Giulianova. Rom condannato, anche qui spazio per la giudiziaria. Abuso edilizio a Giulianova, quattro condanne, erano finiti a processo, scrive, certa stampa per un presunto abuso edilizio nell'area ex Migliori Longa da Giulianova. Un'accusa che oggi al termine del processo di primo grado davanti al giudice Enrico Pompei, costata la condanna a sei mesi pena sospesa e anche a un risarcimento danni a tre imprenditori e a un ex funzionario del comune. Terramo, Pomante, Sunniti, la giunta in uno stato confusionale. Poi i spettacoli, Giulianova giovedì 2 aprile, domani va in scena allo Stabat Mater, al centro socio-culturale dell'annunziata di Giulianova. Poi muore in mezzo alle montagne per una telefonata impossibile. Scrive certa stampa, Team, ricorso al tar della minoranza. E qui ovviamente ancora la polemica di natura politica dopo il consiglio comunale di ieri. Pomante, sindaco incompatibile, la moglie ci lavora. Qui c'è anche la posizione di Brucchi che replica nessun conflitto di interesse, poi attacca la minoranza. E poi insomma anche qui lo spazio alla protesta e alla presa di posizione, la presenza soprattutto dei lavoratori Team che saranno licenziati a fine mese passa al Consiglio Comunale. Poi c'è la posizione sulla vertenza del Mercatone 1 con il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio vicino alla vicenda dei licenziamenti appunto al Mercatone 1. Questo è l'altro titolo che compare nella home page di Certastampa.it. Bene, con questo è proprio tutto. Rassegna Stampa Web si conclude qui. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani mattina sempre alla solita ora.